Ciao a tutti, approfitto di questo momento per fare questo breve video Dunque, io sto un po' meglio, ho passato delle giornate toste, veramente toste, con febbre molto alta Ieri, per fortuna, mi hanno fatto un mix di antibiotici, farmaci vari e la febbre si è abbassata E magicamente oggi sono risaliti tutti i valori, dalle piastrine, ai globuli bianchi, alle emoglobine, è salito tutto Quindi, bene, vuol dire che hanno trovato qualcosa Le chemioterapie ancora non le abbiamo iniziate, quindi vedremo più avanti come andrà Ormai è più di un mese che sono qui, mi sa che mi toccherà starci ancora un bel po' Colgo l'occasione per dire, come già ho detto in un commento, che tutti coloro che fanno battutine Scherniscono il fatto che io abbia fatto i vaccini, quei simboli delle siringhe, cose Verranno segnalati e bloccati dal mio canale Credo, credo di averli bloccati, adesso non so bene, non sono un youtuber professionista Quindi non so bene come funziona Però veramente mi dà molto fastidio Perché se io ho fatto i vaccini non è stata solo una scelta mia, è stato un consiglio da parte dei medici Perché voi i vaccini ai vostri figli non li avete fatti Cioè la Pertosse e tutti gli altri non li avete fatti, io quelli ho fatto Tutti quelli che dicono, ah i vaccini no, e allora prima sono i vaccini del covid E non dovevi farli Non li faccio, e sugli altri vaccini, e allora non faccio nessun vaccino Se vi tagliate con un coltello cosa fate? Morite? Cioè l'epatite non la fate? L'epatite, il tetano, cioè quelli lì non le fate Ho fatto il vaccino per il fuoco di Sant'Antonio e non va bene neanche quello Cioè fatemi capire, voi siete tutti medici adesso Quando andate sul canale di uno che non sta bene, diventate tutti medici Allora per favore andate a fare i pagliacci da un'altra parte Che a me non servono i pagliacci Io rido già da solo, ho già i miei modi per divertirmi Non mi servite voi, se dovete far ridere andate a fare il cabaret da un'altra parte Poi, detto questo, anche consigli vari Devi mangiare quello, devi fare così, devi fare colà Ho dei medici che mi stanno seguendo e mi dicono che cosa devo fare Non vi preoccupate Ho la dieta fatta apposta dai medici e dalla cucina Non mi dite cosa devo mangiare perché ci pensano già loro Grazie Poi, capisco che l'ho fatto in buona fede Però non ho bisogno che venite sotto i video a commentare quello che mangio, quello che bevo Che poi, eh, devi eliminare il latte e i cereali Quella tazza che voi avete visto nell'ultimo video Non è che me la bevo tutta, eh Io di solito ci metto un pugnetto di cereali Eh, due biscotti, basta, quella è la mia colazione È finita Cioè, non è che tutti i giorni mi bevo una tazza così di latte A garganelle così Cioè, me ne bevo un goccino Metto giusto due cereali, due biscotti e finito Il resto lo butto Cioè, non so Se giudicate quello che faccio senza sapere cosa faccio Allora, forse c'è qualcosa che non va Allora, basta Detto questo, eh, fate attenzione a quello che scrivete Se volete continuare a seguire i miei aggiornamenti Se no, se dovete venire a fare, eh, come ho già detto anche nel commento i clown Andatelo a fare su un altro, eh, su un altro canale Perché a me dà solo fastidio e non fa per niente ridere Ok? A posto Dopo questo, quanto è durato? 3 minuti e 44 Bastanza poco, in realtà non avevo molto da dire Forse c'è qualcosato da dire, ma non mi viene in mente Comunque, niente Io sto bene, oggi mi hanno dato questa buona notizia Mi hanno cambiato forse l'antibiotico, me ne hanno dato uno nuovo Quindi, bene Ah, sto perdendo un sacco di capelli Quindi le ultime chemio e i farmaci che sto facendo Si fanno sentire, niente Quindi a breve Contavo già di fare questo video senza capelli Però, vabbè Adesso ho già chiesto che qualcuno me li tagli Perché li sto perdendo sul cuscino e ovunque E non è molto bello Anche perché poi magari dormo di lato, me li respiro E mi strozzo con i miei capelli come fanno i gatti E direi che non è il caso Quindi, mi sa che il prossimo video Lo vedrete Senza capelli Va bene? Basta Piccolo aggiornamento Potevo fare un reel qualcosa forse Però Ma che cazzo mi fai io Non sono capace di fare ste robe da Giovani Va bene? Ciao Ciao